Stamattina siamo qui in Piazza Aldomoro, è la prima delle iniziative che facciamo di quartiere per incontrare tutti i quartieri. Abbiamo preparato una lettera che daremo personalmente a ogni elettore. Gli elettori verranno a questo gazebo, contemporaneamente ci saranno tanti miei sostenitori a partire da Diego Sarno, Gian Piero Tolardo, Claudio Benedetto, Franco Ripani, Mariella Cirulli, eccetera, che parleranno alla cittadinanza, spiegheranno i motivi di questa candidatura che sono legati alla grave crisi che c'è in Italia e sopra la grave crisi che c'è a Nichelino, che richiede una guida esperta, tanti mi hanno chiesto e io sono candidato a sindaco. Domani mattina farò un comizio in cui spiegherò tutte queste cose. Ringrazio tutti i volontari che stanno facendo un lavoro formidabile.